Ciao, come ritrovare il buon umore? Beh, il primo modo è quello di fare una bella meditazione al mattino, una meditazione su eventi positivi, su emozioni positive, visualizzare in modo positivo la nostra giornata. Questo ci darà da subito un buon umore. Iniziare nel modo giusto è la cosa migliore. Poi, il primo punto è fare un'azione positiva che ci dia felicità già al mattino. Concederci una piccola gioia, un piccolo piacere la colazione che ci piace, fare qualcosa all'inizio per iniziare la giornata col piede giusto. Concederci un piccolo regale emotivo, la prima emozione del mattino è ciò che ci fa arrivare subito, iniziare subito con il buon umore. Quindi partire col piede giusto se già a metà dell'opera. E poi, come terzo punto, è raggiungere anche un piccolo obiettivo, definire un obiettivo piccolo da raggiungere durante la giornata, in modo tale da mantenere alto il livello del buon umore. Questi sono i tre ingredienti fondamentali per ritrovare subito, rapidamente, istantaneamente, in giornata, il buon umore. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao!